allora buongiorno a tutti benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti l'obiettivo di oggi è quello di andare a capire com'è strutturato l'ambiente java cioè l'ambiente che supporta l'esecuzione del linguaggio java e che useremo durante tutto il corso iniziamo con un po di storia java è nato come linguaggio nel 91 ed è stato sviluppato da un'azienda che si chiamava sun microsystem all'epoca un colosso mondiale che poi in realtà oggi è scomparsa l'obiettivo era quello di andare a sviluppare un linguaggio che permettesse di costruire applicazioni per i set of boxes quelli che oggi noi chiameremmo i decoder qual era il contesto c'erano le compagnie americane di tv via cavo che acquisivano i decoder da tanti produttori diversi quindi con tanti hardware diversi e il loro obiettivo era quindi poter avere esattamente le stesse applicazioni su hardware diversi quindi l'obiettivo del linguaggio java era quello di fare un linguaggio che fosse semplice di utilizzare orientato agli oggetti come era di moda in quel momento e soprattutto indipendente dalle piattaforme successivamente nel 94 abbiamo avuto un sviluppo di un browser completamente scritto in java che si chiamava hot java e durante questo sviluppo è nata l'idea di costruire dei piccoli programmi scritti in java che si chiamassero applet che potessero essere inseriti dentro delle pagine html in modo da rendere dinamica l'interazione tenete conto che all'epoca le pagine erano assolutamente statiche html senza nessuna interazione oggi noi siamo abituati a javascript fino a qualche anno fa flash quindi un aspetto molto dinamico all'epoca questo non esisteva quindi l'idea di avere degli applet quindi degli aspetti elementi dentro una pagina html che fossero interattivi è stato sostanzialmente rivoluzionario e successivamente nel 96 c'è stata quella che è la prima versione completa di java la 1.0 nello stesso anno nescape che è sostanzialmente la società che sviluppava un browser l'antenato di quello che oggi è firefox decidi di supportare java soprattutto per la possibilità di mettere degli applet nel pagine html questa adozione porta a una versione 1.02 che sistema alcuni problemi del linguaggio nel 97 abbiamo la versione 1.1 che sostanzialmente prevede una ridefinizione abbastanza significativa del linguaggio che è più vicino a quello che è il linguaggio che vedremo noi oggi nell 88 c'è la versione 2 che sostanzialmente rilascia una quantità significativa di librerie librerie sono un aspetto fondamentale di java mentre in c abbiamo alcune librerie standard la libreria di input output è quella standard per modificare le stringhe per allocare la memoria in java abbiamo una serie enorme uno spettro enorme di librerie che permettono di fare qualunque cosa e queste sono sostanzialmente standard nel linguaggio mentre se in c devo andare a sviluppare un'applicazione grafica devo costruirmi o andare a scegliere una tra tante librerie in java ce n'è una ed è standard quindi tutti i programmatori la conoscono nel 2000 esce la versione 1.3 vedete che la 2 e la 3 sostanzialmente sono non più delle versioni del linguaggio ma sono delle piattaforme perché perché hanno non soltanto il linguaggio ma hanno per l'appunto le librerie e altri strumenti collegati quindi la possibilità di generare documentazione debugger profiler quindi tutta una serie di strumenti che fanno parte di questa che è una piattaforma nel 2002 viene rilasciata la versione 1.4 che supporta diverse nuove API quindi librerie soprattutto supporta xml che è un linguaggio di memorizzazione dei dati e inserisce per la prima volta quello che è il login quindi la possibilità di andare a scrivere dei log questo è fondamentale se voi pensate di dover sviluppare delle applicazioni server in cui è importante avere un log di tutto quello che avviene per poter eventualmente diagnosticare problemi nel 2005 esce la versione 5 che aggiunge nuovi elementi del linguaggio quindi dalla 1.2 alla 5 non è cambiato nulla nella 5 vengono introdotti dei nuovi elementi che sono i tipi generici i tipi generici analoghi a quello che in c++ sono i template aggiungono un aspetto importante e permettono una programmazione molto più facile poi l'anno dopo nel 2006 esce java 6 che sostanzialmente non aggiunge particolari elementi se non migliorare la grafica un altro aspetto importante di java 6 è che finalmente java diventa open source e quindi viene rilasciato il codice che può essere utilizzato da tutti nel 2010 la sign microsystem viene acquisita da oracle che quindi diventa il proprietario di java e soprattutto non del linguaggio in sé perché comunque open source ma del processo di gestione e nel 2011 viene rilasciato java 7 che sostanzialmente a parte qualche minore modifica del linguaggio migliora significativamente la gestione dell'input output venendo un po più vicino nel tempo nel 2014 esce java 8 che è una importante evoluzione in termini di linguaggio quindi vengono aggiunti i nuovi costrutti dentro il linguaggio oltre alle librerie in particolare vi menziono le lambda expression e quella che è l'approccio funzionale alla programmazione che sono due importanti aspetti che vedremo un po più avanti nel corso altamente innovativi all'interno del linguaggio java inoltre la java 8 è quella che viene chiamata una lts long time support quindi vuol dire che viene supportata così com'è per un tempo lungo quindi patch aggiornamenti correzioni di sicurezza e quant'altro nel 2017 viene rilasciato java 9 e contemporaneamente inizia un nuovo piano di rilascio del linguaggio avete visto che prima le varie versioni venivano rilasciate con scadenze più o meno varie questo perché il rilascio veniva fatto sulla base di una serie di feature che erano definite quindi voglio aggiungere lambda expression finché non ci sono non rilascio una nuova versione di java a questo punto invece con partire da java 9 l'idea è che il rilascio viene fatto comunque sia ogni sei mesi quindi ogni sei mesi si decide di fare un rilascio e quello che riusciamo a mettere quello che riescono a mettere dentro il linguaggio viene inserito altrimenti passa alla reddita successiva java 9 sostanzialmente aggiunge alcuni aspetti di modularizzazione quindi ho la possibilità di definire dei moduli e definisce quello che è una j shell quindi un ambiente interattivo per eseguire codice java usando il paradigma che si chiama repl quindi read execute print loop quindi legge un comando lo esegue stampa il risultato e poi fa un loop ed è sostanzialmente l'approccio standard di qualunque ambiente interattivo nel 2010 esce java 10 e java 11 ricordatevi che ce ne sono due all'anno e nel 2009 12 e 13 java 11 è una versione LTS quindi quella è una versione che verrà supportata per un certo numero di anni in particolare viene aggiunto la possibilità di avere la type inference automatica del linguaggio per cui non è necessario dichiarare esplicitamente il tipo di una variabile ma questa viene dedotto dal compilatore attenzione che i tipi sono comunque ben definiti perché se io scrivo i uguale a 1 1 è un intero e quindi assume come tipo int noi ci fermiamo per questo corso a java 8 che diciamo il balzo più significativo in termini di linguaggio gli altri aspetti quindi la modularizzazione e la type inference sono aspetti sì variazioni di linguaggio ma non così importanti e quindi preferiamo utilizzare java 8 che è comunque stabile e largamente utilizzato ed è forse un po più semplice da apprendere quali sono le caratteristiche fondamentali del linguaggio java? sostanzialmente è un linguaggio che supporta il paradigma orientato agli oggetti e quindi permette di definire delle classi di fare l'ereditarietà dalle classi di creare e distruggere oggetti in maniera dinamica di mandare messaggi da un oggetto all'altro e sostanzialmente è l'aspetto importante che è un linguaggio puro ovvero non è un misto che mette aspetti orientati agli oggetti e di altro tipo non esistono ad esempio le funzioni le funzioni sono un aspetto che non è orientato agli oggetti negli oggetti abbiamo il codice che viene eseguito si chiamano metodi e non esistono variabili globali quindi sono due aspetti che non fanno parte del paradigma orientato agli oggetti e non sono inclusi nel linguaggio java tanto per darvi un riferimento sia le funzioni che le variabili globali sono ad esempio presenti tranquillamente nel linguaggio c++ che è un altro linguaggio orientato agli oggetti che è quindi non esattamente un linguaggio puramente orientato agli oggetti quali sono le caratteristiche importanti della piattaforma java sostanzialmente che è portabile quindi il mantra iniziale di java era write runs and run everywhere quindi scrivo il codice una volta soltanto e automaticamente lo posso eseguire ovunque perché perché sostanzialmente il linguaggio viene tradotto il linguaggio java viene tradotto in un linguaggio intermedio che si chiama bytecode e poi quel bytecode viene interpretato da una macchina virtuale che ovviamente ha delle ottimizzazioni che permettono di avere delle prestazioni significative è un linguaggio essendo interpretato da una macchina virtuale altamente dinamico quindi io posso al volo caricare nuovi componenti del programma cosa che è difficile invece fare con un linguaggio statico come ad esempio C posso utilizzare le librerie dinamiche ma il loro uso non è così banale in java è decisamente facile è un linguaggio robusto quindi è fortemente tipizzato quindi permette di identificare gli errori facilmente in fase di compilazione quindi buona parte dei difetti vengono trovati in fase di compilazione inoltre essendo eseguito su una macchina virtuale la macchina virtuale fa una serie di controlli a runtime l'esempio più tipico è l'array overflow quindi verifica che non sia possibile accedere a un elemento di un array se non sta nei limiti dell'array stesso e poi fa automaticamente la garbage collection ovvero garantisce che la memoria non più utilizzata venga recuperata quindi non ci sono i memory leaks che ci sono in c dove occorre ricordarsi per ogni malloc di fare una free della memoria e poi ci sono le eccezioni che sono lo strumento più comune e usate in maniera assolutamente pervasiva per gestire errori durante l'esecuzione java sostanzialmente condivide molti aspetti della sintassi con il c e c più più per cui conoscendo la sintassi c è relativamente facile imparare java non è un linguaggio perfettamente orientato agli oggetti perché non ci sono soltanto oggetti all'interno del linguaggio ma ci sono anche dei tipi primitivi tipi di base int float char eccetera mentre se fosse un linguaggio puramente orientato agli oggetti dovremmo avere solamente ed esclusivamente oggetti e in generale un linguaggio facile da usare soprattutto è stato pensato per supportare quella che la programmazione in grande quindi permette di andare a definire delle librerie dei package quindi gruppi di classi permette di generare in maniera automatica la documentazione quindi c'è un programma che si chiama java doc che genera automaticamente la documentazione e soprattutto ha una quantità enorme come vi accennavo prima di librerie standard già pronte all'uso per la concorrenza per le interfacce grafiche per la gestione delle della rete quindi è un linguaggio completo che noi possiamo usare soprattutto una volta che non impariamo impariamo le librerie quelle sono le stesse in tanti contesti quali sono le caratteristiche fondamentali del linguaggio java in sé finora abbiamo fatto della piattaforma che è molto più del linguaggio il linguaggio che cosa ha ha sostanzialmente un unico concetto di primo livello che è quello di classe quindi quello che vedete qui queste due righe sono sostanzialmente il minimo programma java che può essere scritto e può funzionare vediamo quindi di capire come possiamo scrivere il nostro primo programma java io ve lo faccio direttamente qui in una finestra interattiva dove vado a scrivere direttamente il codice quindi apro un editor quindi primo punto java la convenzione che i file che contengono codici java abbiano come estensione punto java quindi la prima cosa che faccio è mettere public class primo aperta graffa chiuso questo è il file java minimale quindi è la cosa più semplice che possa funzionare in termini di programma java quindi noi usciamo il comando per poter compilare codice java usando l'ambiente è java c java c java c primo punto java nessun messaggio vuol dire che tutto è andato a buon fine infatti se noi andiamo a fare una lista abbiamo primo punto java che è il file e primo punto class vedete che il primo punto java sono 25 byte e il primo punto class sono 184 byte a questo punto noi possiamo andare ad eseguire il codice compilato ricordate che vi avevo accennato che l'esecuzione del codice java viene fatto attraverso una macchina virtuale per eseguire la macchina virtuale si usa il comando java seguito da non il nome del file da eseguire ma bensì il nome della classe quindi primo questo sostanzialmente esegue il programma ovviamente il programma che abbiamo visto è vuoto quindi non c'è niente da eseguire andiamo a capire come possiamo effettivamente andare a costruire un programma java minimale per usare un programma java abbiamo bisogno di un punto di partenza un punto di partenza dove la virtual machine inizi ad eseguire del codice e questo lo possiamo fare andando a definire quello che si chiama il punto di inizio o entry point che è dato in java da un metodo che si chiama main main è molto molto simile alla funzione main che troviamo in C ed è il punto da cui inizia l'esecuzione la differenza è che main ha come parametri un array di oggetti string ha come tipo di ritorno void mentre in generale in C il tipo di ritorno è un int e poi ha questo public static per il momento non entriamo nel dettaglio di cosa significano tutti questi elementi ci arriveremo pian piano sappiate che quello è il modo in cui si dichiara la funzione main scusate il metodo main in java rispetto a quanto abbiamo in C lo scriveremo così quindi int main, int argc e poi char star, argvid, array di il tipo è void quindi non è int e il primo elemento dei parametri passati non è in java il nome del programma ma è il primo parametro effettivo mentre invece in C il primo parametro è il nome del programma quindi come avviene tutto questo? avviene tramite una compilazione abbiamo già visto che tramite il comando java C otteniamo il bytecode che ha come estensione punto classe dopodiché utilizziamo la virtual machine java per andare a eseguire il nostro programma quindi proviamo a questo punto a tornare alla nostra console e andiamo a scrivere il nostro programma il nostro punto di ingresso quindi riapro primo punto java e vado a scrivere public static void main string quadre args ecco e salvo ovviamente questo è un programma vuoto quindi non c'è nessuna istruzione se vogliamo avere qualcosa possiamo andare qui ad aggiungere un'istruzione che stampi qualcosa quindi system out println è il modo in cui io stampo sulla console normalmente hello java world anche su questo torneremo quindi capiremo cosa significa questa scrittura ma quello è l'equivalente di un sostanzialmente printf equivale a printf in c esco ricompilo e a questo punto faccio java primo ricordatevi che devo mettere il nome della classe e non il nome del file del bytecode quindi primo mi stampa hello java world quindi siamo riusciti a eseguire il nostro primo programma ora questa è la prima e l'ultima volta che noi scriveremo un programma e lo compileremo e lo eseguiremo direttamente a linea di comando perché per tutto il resto del corso utilizzeremo un ambiente di sviluppo vi consiglio però di provare almeno una volta a fare anche voi questi passi quindi a scrivere un programma compilarlo ed eseguirlo direttamente a linea di comando perché? perché prima o poi potrebbe risultarvi utile e quindi almeno una volta vi consiglio di fare questa esperienza torniamo al nostro codice scusate alla nostra struttura e andiamo a vedere come tutto funziona quindi cosa ha funzionato quindi cosa c'era dentro il nostro ecosistema c'era innanzitutto un file punto class e la virtual machine che cosa ha fatto la virtual machine? la virtual machine sostanzialmente ha preso come input il nome della classe e ha cercato nella directory corrente un file bytecode quindi con l'estensione punto class che corrispondesse a quella classe ha caricato la classe e ha cercato all'interno della classe il metodo main e dopodiché l'ha eseguito producendo il risultato che abbiamo visto prima come è fatto il nostro ecosistema Java? allora Java include il linguaggio e poi tutta la piattaforma la piattaforma include ovviamente la JVM quindi la Java Virtual Machine che è quello che poi esegue il bytecode tutte le librerie di classi che di solito vengono chiamate API API sta per chi non lo sapesse per Application Program Interface quindi l'interfaccia di programmazione per una certa applicazione e poi l'SDK SDK sta per Software Development Kit e quindi l'insieme di strumenti che servono per sviluppare il software in primis il compilatore ma anche il debugger o altri strumenti che possono essere utilizzati per lo sviluppo del software quindi come vi dicevo come funziona la nostra Virtual Machine la Virtual Machine carica le classi abbiamo detto che le classi sono il concetto fondamentale quindi l'elemento principale con cui opera la Virtual Machine ma in realtà tutto Java sono le classi quindi alla Virtual Machine diciamo carica una classe come fa a caricare la classe? la classe viene caricata a partire da quello che è un class path ovvero una serie di posizioni sul file system in cui la Virtual Machine deve andare a cercare le classi quindi per ogni posizione all'interno del class path quindi per ogni cartella la Virtual Machine quando ha bisogno della classe X andrà a cercare se è presente un file che si chiama X.class se è presente lo carica altrimenti passa alla posizione successiva ovviamente se non riesce a caricarlo alla fine ci darà un errore per cui tornando al nostro codice se io dicessi Java invece di chiamarlo primo lo chiamo secondo mi dice non riesco a trovare la classe secondo ok quindi il punto principale del nostro meccanismo di funzionamento Java è il caricamento dinamico delle classi tenete presente che all'interno di un class path è possibile andare a indicare non soltanto posizioni del file system locale ma anche posizioni remote quindi una macchina virtuale Java è in grado di caricare sia classi locali che classi potenzialmente remote usando ad esempio un protocollo HTTP per accedere quindi capite che è un meccanismo molto potente e soprattutto molto utile questo meccanismo può funzionare non soltanto per le applicazioni standard ma per tutte le tipologie di applicazione perché effettivamente Java ha a disposizione tanti tipi di applicazioni allora quella classica è quella l'applicazione stand alone analoga a quello che è un programma C che avete scritto nei corsi precedenti qual è l'idea io do una classe nella classe metto il metodo main ricordate che non esistono funzioni isolate quindi devo avere comunque come punto di partenza una classe metto il metodo main e dentro tutto il codice da eseguire e questa è un'applicazione standard ma io ho tanti altri tipi di programmi che posso scrivere in Java posso scrivere degli applet quindi quei pezzettini di codice che posso annegare dentro una pagina HTML gli applet ormai con l'avvento di JavaScript e quindi linguaggi molto più dinamici non sono più utilizzati probabilmente non l'avete mai visti su nessuna pagina web e a partire da Java 9 sono una caratteristica deprecata del linguaggio deprecato significa che funziona ancora ma potenzialmente nelle prossime versioni del linguaggio Java potrebbe scomparire quindi si consiglia ai lupatori di non utilizzarlo più ma abbiamo anche altre tipologie di elementi quali ad esempio i servlet che sono delle piccole applicazioni che girano su un server e che rispondono alle richieste di un browser quindi quando voi sottomettete un nuovo prodotto sul carrello di Amazon viene eseguito il codice che sta dentro un servlet che prende i dati inserisce in un database e aggiorna il vostro carrello abbiamo dei midlet che quindi sono delle piccole applicazioni che possono funzionare su dispositivi mobili ormai praticamente in disuso e le applicazioni Android le applicazioni Android sono applicazioni scritte in Java che funzionano sul sistema operativo Android non avranno il main avranno un meccanismo diverso quindi un diverso entry point ma sostanzialmente sono tutte tipologie diverse di programmi Java come accennato la volta scorsa il riferimento per questo corso è Java 8 è il linguaggio la versione del linguaggio tuttora più diffusa è quella che ha le caratteristiche più moderne quelle aggiunte dopo sono tutto sommato minori e quindi quello è il riferimento del nostro corso se installate una versione più recente delle virtual machine ricordatevi di impostare nell'ambiente di sviluppo la compatibilità con Java 8 in modo da non avere problemi di alcun tipo Java mette a disposizione online anche una quantità enorme di documentazione quindi voi potete andare online e trovare tranquillamente tutta la documentazione relativa a Java 1.8 voi potete trovare una copia della documentazione di Java anche sul sito oop.polito.it se aggiungete semplicemente uno slash API quindi op.polito.it slash API avete accesso direttamente alla documentazione Java vedete che qui abbiamo i vari package e qua ci sono tutte le classi delle librerie standard Java che sono come potete vedere tantissime tutto questo fa parte della piattaforma standard Java quindi Java mette a disposizione tantissimo altra nota importante quello che voi vedete qua questa documentazione è accessibile durante il laboratorio ovviamente ma anche durante l'esame nessuno si aspetta che voi sappiate a memoria tutti i metodi tutti i parametri di tutte le classi ok quindi come qualunque programmatore nel momento in cui avete un dubbio potete andare a vedere la documentazione online che è uno strumento fondamentale esistono anche versioni stampate di questa documentazione però onestamente non ha molto senso avere un tomo da 10 chili da andare a sfogliare che tra l'altro non è ovviamente aggiornato perché ogni 6 mesi potenzialmente c'è una nuova versione di Java quindi usiamo la versione online usate la versione online e ogni volta che avete un dubbio andate a verificarla ovviamente non potete pensare di programmare partendo direttamente dalla documentazione perché dovete avere un'idea generale di quali sono le classi una volta che sapete quali sono le classi potete andare a vedere i dettagli ma se non avete un'idea di quali sono le classi le loro funzionalità principali ovviamente la documentazione è praticamente inutile l'altro elemento che noi utilizzeremo per la programmazione è Eclipse Eclipse è un ambiente integrato di sviluppo di cui parleremo tra un po' anzi nella lezione di mercoledì cercheremo di vedere assieme come funziona e è liberamente scaricabile ed è uno degli ambienti più diffusi assieme a IntelliJ Idea nella pratica comune a livello industriale di scrittura del codice un aspetto importante del Java è che definisce a differenza di quanto fa CI una serie di convenzioni standard per la scrittura del codice ad esempio i nomi vengono scritti solitamente utilizzando quella che è la camelback capitalization quindi le iniziali di ogni parola vengono messe in maiuscolo questa ovviamente è un'alternativa a usare l'underscore che invece è una notazione più comune all'interno del contesto CI normalmente data questo modo standard di unire più parole per formare un identificatore la regola è che le classi iniziano con una lettera maiuscola mentre invece metodi attributi variabili iniziano tutte con una lettera minuscola le costanti esattamente come avviene in CI sono tutte in maiuscolo e ovviamente se una costante è composta da più parole si usa per unirle l'underscore e soprattutto Java raccomanda di fare una indentazione appropriata quindi i blocchi di codice devono essere messi indentati correttamente ad esempio vedete che qui ho un nome di una classe che inizia con una maiuscola e usa il camelback per unire le due parole qui abbiamo una costante tutta maiuscola l'attributo inizia con una minuscola come pure il nome di un metodo e anche il nome delle variabili come facciamo a una volta che abbiamo costruito una classe distribuirla abbiamo visto che la compilazione ci dà a partire da una classe quindi un file di testo che è analogo a quello che vediamo qua come risultato un file bytecode con estensione .class ovviamente come potete facilmente immaginare un programma significativo ha tante classi quindi quello che ottengo sono tanti file .class ovviamente non ha molto senso andare a spedire tanti file individuali per cui in Java è previsto un meccanismo di rilascio del codice tramite dei file che si chiamano jar jar sta per vasetto in inglese sostanzialmente sono come struttura dei file zip quindi degli archivi compressi in cui sono messi tutti i file class necessari più alcune informazioni addizionali quindi meta informazioni la virtual machine è in grado automaticamente di accedere a un file jar estraendo i bytecode delle classi che deve eseguire quindi io posso dare semplicemente come classpath oltre a una cartella in cui trovare file .class anche un file jar in cui trovare gli stessi file .class che contengono il bytecode delle classi che la virtual machine deve poi andare a caricare sulle slide trovate poi alcuni dettagli su come costruire i file .jar aggiungere elementi eseguirli e quant'altro non mi soffermo molto anche perché se voi avete l'ambiente Eclipse per lo sviluppo esiste un comando direttamente dall'ambiente che vi permette di andare a generare il file .jar mettendo assieme tutte le classi necessarie ultimi dettagli alcune domande tipiche e con le tipiche risposte allora qualcuno mi potrebbe chiedere chi è più potente Java o C la risposta in questo caso è la tipica risposta del buon ingegnere ovvero dipende se vogliamo parlare di prestazioni pure C è abbastanza meglio di Java anche se la differenza effettiva non è così grande tendenzialmente Java è un po' più lento a funzione dei contesti specifici può avere dei rallentamenti che vanno intorno al 10-20% rispetto a C quindi se la potenza la velocità di calcolo è fondamentale probabilmente C è meglio però Java non è tanto peggio tenete presente che molto spesso è molto più importante scrivere del codice corretto e funzionante in tempi rapidi quindi avere dei tempi di sviluppo brevi piuttosto che tempi di esecuzione brevi e in questo caso Java sicuramente è superiore a C è più facile da utilizzare e soprattutto permette di andare a contenere gli errori decisamente meglio immaginate semplicemente quando un programma C non funziona e va in crash ecco normalmente non avete nessuna informazione di dettaglio in Java normalmente se avete un crash vi viene indicata la linea precisa in cui c'è stato ad esempio l'uso di un puntatore nullo e quindi è molto più facile identificare gli errori e correggerli quindi i tempi di sviluppo si accorciano in generale come vi dicevo il modo di distribuire dei programmi in Java non è con degli eseguibili anche perché gli eseguibili non sono più indipendenti della piattaforma quindi io un file .jar che ho creato sul mio Mac lo posso passare a voi e voi lo utilizzate tranquillamente su Windows piuttosto che su qualunque altro Linux senza nessuna modifica se genero un file eseguibile ecco funziona sicuramente sulla macchina su cui l'ho generato esiste tuttavia la possibilità tramite il computatore GCJ della GNU di generare un file eseguibile se proprio avete la necessità ma normalmente è un qualcosa che non si fa in generale quando scaricate tutto l'ambiente Java dai link che sono forniti sulla documentazione che vi ho fornito quindi vi ripeto velocemente questa è la documentazione se voi andate su op.polit.it slash doc software di riferimento trovate due punti due link da cui scaricare vi consiglio in questo momento di andare a scaricare quello che è corretto che è la versione sviluppata da Amazon di Java questa virtual machine questo ambiente Java è garantito essere supportato fino al 2023 e quindi siamo puramente tranquilli che tutto funzioni anche per ancora un po' di tempo tornando alle nostre domande attenzione quando scaricate a scaricare l'SDK e non semplicemente quello che si chiama RTE Runtime Environment perché Runtime Environment include esclusivamente la virtual machine e non il compilatore e tutti gli altri strumenti di sviluppo vi faccio anche notare che Eclipse non usa il compilatore standard del Java SDK ma bensì usa un proprio compilatore interno e quindi ci sono alcune piccole differenze direi che con questo noi abbiamo concluso la nostra panoramica su quello che è l'ambiente Java il prossimo passo sarà quello di andare a capire come è fatto il linguaggio Java e quindi come possiamo scrivere dei programmi Java in particolare se ricordate la lezione precedente quella dal vivo come possiamo partire da quel diagramma delle classi che avevamo fatto e andare a scrivere del codice che lo implementa e permette di svolgere le funzionalità che avevamo cercato di codificare in maniera così astratta usando delle classi e loro attributi e i metodi di svolgimento di svolgimento Grazie a tutti.